Io a Capodanno voglio andare a New York perché è una città che non ho mai vista, vuoi venire con me? Normalmente è in baita con l'obiettivo di andare a sciare l'uno mattina, sono tutti ancora a smaltire la sbronza, quindi le piste... E' il re delle piste. E io sono il re delle piste. Rosso Istria, un film dedicato alla crudele vicenda delle foibe in cui furono uccisi migliaia di italiani dai partigiani yugoslavi alla fine della seconda guerra mondiale. Appena presentato a Roma, diretto dal regista cileno Maximiliano Hernando Bruno, il film è interpretato da Geraldine Chaplin, figlia del mitico Charlotte e dal nostro Franco Nero. Questo è un film che praticamente tutti i ragazzi a scuola dovrebbero vedere, gli insegnanti dovrebbero imporre ai ragazzi di vedere perché è anche questo un episodio, questo delle foibe, per non dimenticare. Per oggi la puntata di Super Cinema finisce qui, Marta è rimasta intrappolata nella rete dell'Uomo Ragno, visto che ha fatto la biografia di Stan Lee, come si sta? Bene, bene. Faceva ridere? Faceva ridere? Va bene, noi andiamo a lavorare per voi, vi aspettiamo qui. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata.